Bella a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video della nostra Master League con la Roma, signori io sono Maullo e prima di partire dal video vi ringrazio per i like, per i commenti, per il supporto che date a serie e al canale Signori, allora, cosa ci aspetta in questo episodio? Noi veniamo dallo scorso episodio in cui abbiamo battuto l'Arsenada, signori, con una gran partita in rimonta 2-1 Bella, bella, e oggi siamo pronti per scendere un momento in campo Ci stiamo avvicinando, signori, l'obiettivo è il secondo posto Penso che più del secondo posto non possiamo andare Siamo a buon punto, perché vi volevo farvi vedere una cosa che non vi ho mai fatto vedere No, eccolo qui, signori, noi già ci siamo fatti due terzi di campionato, praticamente, più o meno sì Ovvero le prime sette partite le abbiamo giocate, poi abbiamo giocato le altre sette E ora abbiamo fatto il giro di boa, signori Oggi ci tocca il Dortmund, quindi siamo addirittura d'arrivo, signori Ci mancano meno della metà delle partite, praticamente, alla fine di questo campionato Non perdiamo tempo, signori, e procediamo con l'incontro Procediamo, sì, 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 andiamo, 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 andiamo Dortmund, il Dortmund la vedo complicata, signori Però è prima in classifica, se non ricordo male E a noi ci interessa rosicchiare dei punti nei suoi confronti Allora, mi avete detto, soprattutto Charlie, due episodi fa, nei commenti Mi ha detto di provare a far stare assieme sia Miranda che Totti Ci possiamo provare, signori, però ho pensato una cosa Siccome non voglio stravolgere troppo la squadra Io metterei un attaccante un pochino più indietro così Miranda lo spostiamo un pochino più così E Castello, l'unica punta, lo mettiamo un pochino più al centro Dici, ma perché queste modifiche? Perché Perché, ma andiamo a cambiare i giocatori E andiamo a mettere Castello, l'unica punta Anche se è alto un metro e una tic tac Bolatta, lo sostituiamo per Intanto Totti E Totti lo andiamo Totti potremmo anche lasciarlo lì, sapete Non è proprio il suo ruolo, però potremmo provarlo Potremmo provare per vedere come gli gira Anche se è proprio giù di morale Totti Va bene, Totti Se è proprio alla grande Vorlangen lo andiamo a mettere a posto di Cellini Che è su di morale, ma non ci interessa Ximas lo cambiamo con Espinas E Ximas lo leviamo per il buon Babagida Abbiamo qualcuno più su di morale? No, diciamo che tutto Valery è stato espulso, se non sbaglio La scorsa partita effettivamente non ce l'abbiamo qui in campo Quindi non è disponibile Non mi ricordo perché, signori, però va bene E al suo posto chi ci ha messo il computer? Ivano Dostromer, Ducic, Cecil, York Mi manca, mi manca Cecil forse, mamma mia Abbiamo tutte le statistiche verso il passo Va bene, non perdiamo ancora tempo a pensare a cose nuove Signori, io direi di poter scendere in campo Vediamo cosa succede Andiamo in campo, signori, con questa nuova tipologia di formazione della Roma Totti dietro l'unica punta Castelo E Miranda in campo nel ruolo di trequartista E Babagida sulla destra Vediamo se possiamo avere dei futti diversi Ci proviamo, signori Ci proviamo Vediamo un attimino Cos che cazzarola fa E Babagida Partiamo subito malissimo Babagida per Miranda Miranda, 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 Miranda Miranda ancora Babagida Babagida cerca Yorga Yorga Attenzione, attenzione Bell, nooo Era stato buono il movimento Ok, calma, 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 calma Tutti, 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 tutti nel nuovo ruolo Tutti nel nuovo ruolo Tutti nel nuovo ruolo Tutti nel nuovo ruolo Non arriva a calciare A metterla in mezzo Calcio d'angolo Miranda Torna lui a batterla Per Babagida Che si gira benissimo Babagida Babagida, Babagida Babagida Entra in aria Cazzarola Attenzione Ducic Dove va Ivanov Che cazzarola fa Ivanov Signori Ivanov mio Non è che mi può far prendere sti infatti Vorlangen Vorlangen Per Babagida Babagida Che perde il pallone Cercavo uno dei suoi scatti Questa volta L'hanno fermato Subito Batte Mi sa che si sta più a troppa Troppa confide Attenzione, attenzione Attenzione Bisogna fermarlo subito Ok Ivanov Fatti, fatti tu E' vero zio Io capisco tutto Ivanov mio Ma devi stare in porta Grande pallone Recuperato la Roma Per Babagida Babà, il Babà, il Babà Il Bamba Il Bamba Ha cercato Totti Totti, 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 Totti Totti No Grande azione della Roma Signori Grande azione della Roma Babagida aveva trovato Un ottimo No, 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 no Ivanov Babagida aveva trovato Un ottimo inserimento di Totti Signori Riesce a passarla lì? Bene Ed eravamo quasi riusciti A essere davanti alla porta Da soli Mannaggia Il nostro Di che cazzo lo hai? No, è loro Mannaggia Babagida l'ha buttata Ha avuto paura Babagida Babagida ha avuto paura E l'ha buttata Lui direttamente fuori Attenzione Questo cambio di campo Attenzione Castello 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 Non ho visto che il portiere Usciva Ma come si fa a essere così Così rinco Signori Non ho visto che il portiere Stava uscendo Mannaggia A lui Attenzione Attenzione Lo sapevo io Lo sapevo io Che era pericolosissima Sta palla lì Va bene Va bene Buono L'innesso laterale Al ventesimo Già partita Piena di emozioni Signori Siamo stati vicinissimi Al vantaggio Due volte Con due buone occasioni Attenzione Ancora Babagida 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 Questa volta riparte E decisa a ripartire Babagida 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 Totti non lo segue bene Totti non lo segue bene Babagida 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 In fondo Attenzione Ma perché Castello Si sposta Di cogliere Ti ha detesta Zio Cazzarola Riusciamo a arrivare lì Riesco a farti dei cross Bellissimi Babagida Attenzione Babagida 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 Nazione delle sue Niente Non riesce a concretizzarla Però attenzione Spimas Spimas Cercato Castello Castello Che si ferma Castello 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 La apre per Jorga Jorga decide di andare sulla fascia Jorga 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 La controcrossa Pallone messo fuori Attenzione Volmer Il tiro Attenzione Vorlangen Ci ha provato Da fuori Una Roma che sta giocando bene Signori Una Roma che sta giocando bene Non facciamo cretinate Signori Cortesemente Gradirei non far cretinate Stromer La deve andare a chiudere lui Attenzione C'è il cross per via centrale Ancora Stacco di testa Attenzione Attenzione Buonissimo Jorga la recupera Palla per Babagida Che l'allunga per Totti Che però perde il pallone In una posizione molto brutta Il Dortmund Il Dortmund Riesce la grassi sulla fascia Attenzione Salvataggio difensivo Al trentunesimo Al trentunesimo Salvataggio difensivo Calcio d'angolo per il Dortmund Attenzione Attenzione Ivanov Con sicurezza La ferma La tiene lì La ferma La tiene lì Ivanov Che poi riparte per Ducic Che apre per Jorga Che vede il Babagida Che riparte su quella fascia Signori Purtroppo L'uscita Dalla nostra Di rigore È sempre la stessa Attenzione Pallone per Totti 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 Riesce a crearsi lo spazio Cercato Jorga Qualcio d'angolo Va bene Va bene Totti ha perso l'attimo Per poter tirare Mannaggia Miranda 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 Per Babagida Per Babagida Che entra in aria Babagida Pallone respinto Trentaseiesimo Trentaseiesimo Grande Grande La Roma Che non ha più problemi Di 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 Grandissima A Roma Grande A Roma Che si sta Difendendo bene E sta anche Creando dei problemi A Dortmund Ricordiamo Prima in classifica Jorga 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 L'apre Attenzione Babagida Babagida Cerca Miranda 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 Che ricerca Babagida Che ricerca Totti Che si allaga Su quella fascia Totti 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 Niente Totti Velocemente Non riesce A sfondare Io vi comunico Una cosa Che il mio prossimo Acquisto Che vorrei fare Cosa che non riusciremo mai A fare nella vita Sarebbe quella Di comprare Ronaldo Attenzione Babagida 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 No Che cazzarola Totti Non riesce a ventarsi Bene sul pallone Mannaggia 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 Vorlangen Per Miranda 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 Sbaglia completamente Il passaggio Dove essere un passaggio Per Totti Non si sa Per chi fosse Attenzione Ancora Attenzione Babagida Annaggia Minuti di recupero Minuti di recupero Attenzione No 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 Uscivano Vesce Per fortuna Riusciamo a Tenere fermo Il risultato 0-0 Alla fine del primo tempo Buon primo tempo Di questa Roma Signori Non mi dispiace Non mi dispiace Siamo difesi bene Non cambiare niente Continuiamo così È vero che adesso Abbiamo Totti e Babagida Dall'altro lato Però va bene Bisogna Bisogna portare avanti Il gioco di squadra Signori 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 Babagida Babagida Per Ducic Ducic Cercato Cecil Cecil Perde il pallone Mannaggia 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 Ivanov Con calma Va bene Ivanov Con calma Va bene Giocala lì Giocala lì Ducic Ducic Cerca Jorga 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 L'apre Per Babagida Che è libero Babagida 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 Vede Totti Che si fa anticipare Ma no 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 Ivanov di testa Esce in un momento Disperato Attenzione Il Dortmund Continua su quella fascia Attenzione Riesce a trovare Il conto Cross Mamma cosa ha salvato Ivanov Signori Mamma mia Cosa ha salvato Ivanov Occasionissima Per il Dortmund Pallone Babagida Che deve con calma Riorganizzare Vorlangen Espimas Espimas Miranda 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 Vede Totti 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 Che non sta dando Quella sicurezza Che il reparto Vorrebbe Babagida L'apre tutta Per Jorga Grandissima L'apertura Per Jorga Il cross Al centro Castelo Però non si fa Trovare pronto Attenzione Ancora il Dortmund Pronto a ripartire Attenzione al Dortmund Attenzione al Dortmund Non facciamo riguadagnare Spat Grandissima L'attesa Bravissimo Nell'attendere il difensore Che non mi ricordo Chi sia stato Babagida 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 Riesce No Totti Sbaglia completamente Il movimento Il Dortmund Riconquista un pallone Totti Che non sta dando La sicurezza Tanto sperata Attenzione Grandissimo Ducic Ducic Grandissimo nel recupero Parla per Vorlangen Che guadagna Un fallo Il metà campo Il nostro capitano Vorlangen Che ora riprende il pallone Vorlangen Cercato Espimas 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 All'allarga Per Castello 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 Deve inventare qualcosa Castello 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 Mamma mia Ho inventato La cosa più sbagliata Che poteva inventare Ickbeba Fermato Da Stromer Che non riesce Però a evitare Il calcio La rimessa laterale Ancora Ickbeba 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 Miseria Mannaggia 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 Attenzione Castello Ci siamo mangiati L'impossibile Signori Ed è anche giusto Ed è anche giusto Che non riusciamo Attenzione Gran pallo Attenzione Babangita Babangita Perché non tiro subito Mannaggia Attenzione No Castello Sbaglia Perde troppo tempo E poi fallo Al centrocampo Fallo di frustrazione Di Ducic Che prende il rosso Ma Ma Stiamo scherzando Dai Ma non era fallo Nemmeno da ultimo uomo Ma dai Ma Abbiamo perso Ducic Il nostro difensore centrale E Vorlangen Si sposta In difesa Perdiamo Il centrocampista Di Di Rottura Ma non ci posso fare Niente Mettiamo Vorlangen Là Speriamo di non prendere Ora L'imbarcata Che sarebbe L'ultima cosa Peccato però Abbiamo Abbiamo sprecato Troppo Signori Abbiamo Sprecato troppo Le occasioni Le abbiamo avute Ancora Siamo al 24 E' pur vero Che possiamo inventarci Qualcosa Però Con l'uomo in meno Contro questo Dortmund Che è Cinico Signori Contro questo Dortmund Un cinico Attenzione Miranda Babangida 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 Si allarga su quella fascia Babangida Totti è lì Totti dovrebbe stare Babangida Riesce comunque a tenere il pallone Babangida Babangida Si accentra Il bamba Il bamba Il bamba Il bamba Espimas 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 Riparte brevecentrale Espimas Niente da fare Un tiro Strozzato Da parte di Espimas Tra l'altro Sbilanciato Quindi niente da fare Niente da fare Attenzione Stacco di testa ancora Ancora il Dortmund Che cerca No no signori L'abbiamo lasciato passare Cioè gli mancava solo Il tappeto rosso Porca miseria Gli mancava solamente Il tappeto rosso E lui poteva fare Quello che voleva Palla No Babangida Azione Azione Troppo Attenzione Con calma Bene così Cecil Cecil Cerca di uscita Cecil Babangida Babangida Miranda Miranda per Totti Miranda No Che cazzarola però Totti mio Uffa 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 Trentacinquesimo Cambio di modulo Ha giovato Fuori gioco Questo cambio di modulo Ha giovato Alla Roma Ma abbiamo fatto Qualche azione buona L'abbiamo creata Non posso dire che non Non c'è stato Un buon giro di palla Babangida 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 Va il bamba Il bamba Il bamba Il bamba Vaffanbagno Vaffanbagno Che fortuna Sfacciata Che fortuna Sfacciata Attenzione Attenzione Miranda 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 Ci ha provato E ancora Niente Il d'orto Quando riparta Al quarantesimo Attenzione Attenzione Miranda 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 Per Castello Castello per Totti 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 No Ma che cazzo Non l'ho fatto Ma che cazzo Non l'ho fatto Se volevo Volevo mandare Babangida Sulla fascia Volevo mandare Babangida Sulla fascia Niente È finito Quarantaquattresimo Dai 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 Fammi ripartire Fammi ripartire Quarantaquattresimo Forse ultima azione Forse ultima azione Per la Roma Signori Per trovare il gol Del pareggio Niente Si ferma La rincorsa Della Roma Scusate Mi sono sforzato Un attimino Si ferma La rincorsa Della Roma Signori Dopo l'ottima vittoria Contro il Borussia Dortmund La Roma Si ferma Contro il Dortmund Che vince Una partita Che non meritavamo Di perdere Non meritavamo Di perdere Signori Abbiamo giocato bene Abbiamo Sbagliato Tutto quello Che potevamo sbagliare L'Arsenal Batte l'Ajax Tutto questo Vediamo un attimino Il Rio di Cenerio Che ho scoperto Essere il Vasco da Gama Perde contro la Fiorentina Ok Il Parma Batte il West Ham Quindi il Parma Ci supera Signori Va bene così 64esimo Una scompitta Che non ci stava Però Questo è il calcio Signori Purtroppo Riesce a ribaltare L'Arsenal 2 a 1 E altre volte Invece Ti tocca perdere Contro Il Dortmund Che vola A 36 punti Fiorentina 31 Arsenal 31 Parma 27 West Ham 26 Roma 24 Signori Facciamo tanto Ma non riusciamo a salire Quella china Che però Ci proveremo ancora Signori Ci proveremo ancora Detto questo Io vi ringrazio Per questo video Vi ringrazio per i like Per i commenti Per il supporto Signori E ci vediamo Domani Con un nuovo Applausamento Di Minecraft No Domani Che cazzo Non lo so Signori Ci vediamo domani Con un nuovo video Bella raga Ciao Ciao